L'Inacada, la Compagnia du Servo, a Cervo proseguono le iniziative culturali, musica, ma anche libri. Il Maggio dei Libri in modo particolare è un evento a cui tenete molto, è così? Certamente, oltre a freggiarci già del titolo di Città che legge, Cervo è inserita anche nel circuito del Maggio dei Libri. La lettura mette le ali proprio nel mese di maggio e conclude in bellezza con tre eventi letterari che concludono la rassegna Cervo in blu d'inchiostro. Si tratta del primo incontro con Elisabetta Dami, sabato prossimo, 5, a seguire poi l'incontro con Carlo Lucarelli, il 17, ed infine con Antonella Ferraiolo, il 24, sempre di maggio. Diciamo che il Maggio dei Libri è un'occasione anche molto importante perché la lettura è diffusa proprio a livello nazionale e noi a Cervo, nel nostro piccolo, cerchiamo di promuoverla anche in forme originali come questa iniziativa propone. Tant'è che avremo proprio sabato prossimo qualcosa di veramente caratteristico e particolare perché anche gli asini a Cervo leggono e Margherita, la lesinella, che è la mascotte di Cervo, porterà nelle sue gerle proprio i libri di Geronimo Stilton, il famoso personaggio di cui la Dami è proprio la mamma. E allora qualche cosa in più la chiediamo su questo appuntamento di sabato a Francesca Rotta Gentile, un appuntamento che incuriosisce anche da qualche punto di vista direi. Sì, è vero, è sicuramente un appuntamento inedito per Cervo, un incontro che dedichiamo soprattutto al mondo dei bambini, dei ragazzi, ma anche degli adulti. Elisabetta Dami sarà per la prima volta a Cervo ed è proprio l'ideatrice di questo personaggio che poi ha avuto una fama mondiale, che è appunto Geronimo Stilton, e ci racconterà come le è venuta l'idea di creare questo topo giornalista così intraprendente, così simpatico e tra l'altro il suo segreto è davvero originale, come l'ha raccontato in anteprima ed è davvero una bellissima storia e lei stessa è davvero una persona straordinaria, amante dei bambini, ma anche della natura, dell'ambiente e perciò sono sicura che a Cervo si troverà molto bene. Sarà poi un incontro intermezzato anche da momenti musicali e infatti avremo Chiara Palmero che ci delizzerà con la sua voce, accompagnata dal chitarrista Giovanni Pairone. Ecco, perciò insomma vi aspettiamo numerosi. Anche per sabato si mantiene la tradizione, chiamiamola così, del dialogo con l'autore. Sì, esatto. Sarà un personaggio noto anche al pubblico televisivo a intervistare, a dialogare con Elisabetta Dami. Sarà infatti Massimo Picozzi, per la prima volta a Cervo, saggista, psichiatra, noto opinionista su diverse reti televisive, anche criminologo che parlerà con Elisabetta Dami soprattutto sulla tematica delle emozioni e dell'educazione alle emozioni. Perciò oltre alla presenza di Elisabetta Dami sarà anche la prima volta per Cervo di Massimo Picozzi.